Padre, che cosa mi sta succedendo? Una condanna a nove anni e un'infinità di dubbi è quanto rimane ad un anno di distanza della vicenda giudiziaria sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini. All'alba del 2 novembre 1975, con il furtuito arresto di Pino Pelosi, il caso sembra risolto. Il ragazzo confessa subito, dice che Pasolini non è stato ai patti e lo ha brutalmente aggredito. Dice di aver ucciso per difendersi, dice di aver agito da solo. La sua versione presenta però delle grosse contraddizioni. Le perizie medico-legali smentiscono alcune sue affermazioni. Ma nonostante i dubbi, le lacune, le incertezze, le indagini non vengono approfondite. L'assassino è stato catturato a tempo di record, appena 25-30 minuti dopo il delitto, ha confessato. Cosa si può pretendere di più? Durante il processo, gli avvocati di parte civile mettono in luce tutte le contraddizioni emerse nel corso delle frettolose indagini. Sollevano tutta una serie di interrogativi ai quali non era stata data risposta. Come aveva fatto Pino Pelosi, violentemente aggredito, a non avere neanche un'ecchimosi, mentre Pasolini, l'aggressore, era stato letteralmente massacrato? A chi apparteneva il maglione verde che fu trovato nella macchina di Pasolini? Come mai le sigarette l'accendino che Pelosi sosteneva di aver lasciato nell'auto non furono mai trovate? La tavoletta di legno compensato che Pelosi usò per colpire Pasolini era molto fragile. Come aveva potuto provocare le lesioni e le fratture trovate sul corpo della vittima? Questi interrogativi, ed altri ancora, convincono il pubblico ministero e i giudici che Pino Pelosi, certamente responsabile, non ha agito da solo, ma ha aiutato dai ignoti complici. Questa sentenza deve servire a far proseguire le indagini, a far trovare quegli ignoti complici. Avvocato Marazzita, lei è stato l'avvocato di parte civile nel primo processo contro Pelosi, l'omicida di Pasolini. È passato un anno. Cos'è successo? Non è successo niente. Doveva succedere molto, ma non è successo niente. Lei semmai mi potrà domandare perché. Perché io non credo che ci sia da noi una opinione pubblica insensibile al desiderio di sapere la verità. Anzi, credo che sia esattamente il contrario. Semmai c'è una parte di opinione pubblica, quella che io dico sempre, non riesce a dare... Allora di chi è la colpa? La colpa. Di coloro che non recepiscono questa spinta che parte dall'opinione pubblica più sensibile, cioè dagli organi di informazione, dagli organi di stampa. I giornali. I giornali hanno ridotto il problema. Lo hanno ridotto laddove hanno visto il processo a Pelosi come un piccolo giallo da risolvere, per fare notizie, per interessare i lettori. Era un omicida? Non era un omicida. Diceva la verità? Non diceva la verità. Riducendolo, è successo quello che inevitabilmente doveva succedere. Il giorno dopo della sentenza non si è parlato più di nulla. Il silenzio è più assoluto. E il silenzio è sempre colpevole. Io a fa' attore non mi ho mai fregato niente, come tutt'ora non me ne frega niente. Poi l'ho detto apertamente, senza problemi. e lui mi disse... Il silenzio è più assoluto. Grazie a tutti.